buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a fortnite stagione 7 settimana 8 ora vediamo insieme tutti gli incarichi leggendari di questa settimana cominciamo con la fase 1 di 6 che sempre praticamente quella di trovare una cabina del telefono e interagire per poi passare alla seconda fase seconda fase che ci chiede di raccogliere la scheda d'accesso da una guardia oi quindi cerchiamoci in una base uccidiamo la guardia ok raccogliamo la nostra scheda e abbiamo completato questa fase quindi facilissimo si trovano ovunque non c'è una location fissa dove ci sono le basi io trovate la guardia e troverete la scheda terza fase posiziona cimici in diversi luoghi indicati adesso scendiamo qua vedete in mappa ce ne da 2 4 6 5 scusate 5 noi andiamo qua dove ho pingato a mettere il nostro primo nostra prima cimice in un punto nascosto scendiamo velocemente ok ne servono tre quindi in tre post diversi tre cimici diverse quindi prima la mettiamo qua vediamo dove bisogna posizionarla nel modo corretto dovrebbe essere vediamo eccola lì vicino al masso lì la nostra prima cimice scendiamo veloci veloci presa e adesso spostiamoci al lago languido per mettere la seconda ora c'è un veicolo e andiamo a piedi raccogliamo una strattanica un'arma che non fa mai male ok 300 metri andiamo a piedi che facciamo prima allora dove sarà dovrebbe essere vicino alla piscina vediamo ok giù 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 vediamo dov'è la seconda cimice che ci permette di completare anzi di arrivare alla 2 di 3 per completare questo incarico leggendario della settimana 8 di Fortnite vediamo dovrebbe essere 2 di 3 vediamo la terza parte che si trova qui siamo spostati qua sotto il centro in questa base vicino a questa base sotto il traliccio mantenne le comunicazioni troviamo la terza per completare questa fase passiamo alla fase successiva 4 di 6 interagisci con il computer di un agente poi allora andiamo qui come vedete sulla mappa ce ne sono un sacco 2467 noi ci troviamo qui dentro il garage dove ci sono le macchine vedete ok qui c'è il computer e completato anche questo incarico quindi ora passiamo al successivo il successivo completato ok il successivo consens consens consiste cancella la memoria di johnny bunker relatore della palude o bill umano quindi 12 è il terzo là in alto noi andiamo qua da johnny ok basta interagire per completare anche questa fase di queste incarichi leggendari della settimana 8 giù 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 veloci veloci mi raccomando supportatemi con un bel like condividetelo con i vostri amici parenti i cugini zii nonni conoscenti iscrivetevi al canale attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto mi raccomando e adesso noi ecco lì completiamo l'incarico ok ce l'abbiamo fatta abbiamo finito questo incarico per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo ciao